Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video. Nelle prossime ore, un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche è imminente sul nostro paese. Diverse regioni saranno interessate da piogge e, in alcuni casi, anche da temporali. La Protezione Civile Nazionale ha emesso un'allerta meteo per tre regioni a causa di un vortice ciclonico proveniente dall'Ovest del Regno Unito, in viaggio diretto verso l'Italia, intensificando la perturbazione in questo tumultuoso mese di novembre. Con un secondo evento atteso più avanti nella settimana. Segnali di cambiamento e il mutamento atmosferico sarà evidente a breve, con un fitto strato di nubi che presto coprirà i cieli della Sardegna e delle regioni centro-meridionali. Già dalla tarda mattinata, si prevedono deboli piogge sul versante tirrenico, precursori dell'arrivo del fronte perturbato.Pomeriggio e sera, un netto peggioramento del tempo è atteso nel pomeriggio e nella serata, con piogge più intense concentrandosi sul medio e basso tirreno, soprattutto tra Lazio e Campania. Nella serata e durante la notte, le precipitazioni si intensificheranno sulle regioni centrali tirreniche, come il Lazio, e attenzione anche a Roma, estendendosi poi a Campania e Calabria. Con rischio di temporali e nubifragi improvvisi.Evoluzione la perturbazione si sposterà rapidamente verso est, portando un miglioramento delle condizioni meteorologiche già dalla mattinata di martedì 28 novembre, tranne per una residua instabilità nel basso versante tirrenico.temperature 21 generale. Calo termico è previsto nelle aree colpite dal maltempo, mentre altrove si registrerà un aumento, a causa dell'intensificazione dei venti meridionali, con libeccio prevalente sul versante tirrenico e scirocco su quello adriatico.